Il capo della squadra dei guerrieri che inizio a presentarmi, Ivan Della Valle, cittadino deputato. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto volevo dire che dobbiamo ringraziare la signora, perché noi non la chiamiamo più Presidente della Camera, perché non è degna per quello che ha fatto di essere chiamata da noi in questo modo. Dobbiamo ringraziarla perché noi abbiamo cercato di difendere la democrazia, di difendere il regolamento, di non regalare 7 miliardi e mezzo alle banche e l'abbiamo cercato di fare in un modo più pacifico e seguendo il regolamento, cercando di bloccare quella votazione perché volevamo continuare a discutere regolarmente i nostri emendamenti, però hanno fatto una cosa che non esiste, hanno messo questa ghigliottina che non esiste nel regolamento. Io vi invito ad andare a scaricare il regolamento della Camera, non esiste. Il problema è che a mezzanotte sarebbe scaduto questo decreto e quindi hanno tagliato la discussione, non ci hanno permesso di discutere i nostri emendamenti, non ci hanno permesso di discutere quello che era il nostro diritto di obiettare su quello che stavano facendo, perché noi avevamo anche interrotto la discussione dicendo va bene, questo è un decreto, noi siamo d'accordissimo ad abolire l'Imu, ma togliamo la parte su Imu Banca Italia che regala 7 miliardi e mezzo alle banche, che anche l'Europa adesso ha detto che non era regolare questo regalo e va benissimo, lo votiamo entro mezzanotte, aboliamo l'Imu. No, invece loro hanno fatto i titoloni sul loro giornale di regime dicendo che il Movimento 5 Stelle non voleva far pagare l'Imu agli italiani e non dicevano nulla, nulla sul regalo alle banche e quando la signora è andata da Fazio, lo zerbino che non gli ha fatto neanche una domanda, ha detto che eravamo dei sovversivi, dei potenziali stupratori e questa persona si deve vergognare di quello che ha detto in televisione, si deve vergognare perché dovrebbe essere imparziale e dovrebbe essere garante di tutte le forze presenti in Parlamento, ma questo lo sappiamo che non è così. Io personalmente sono stato espulso 25 giorni per aver cercato di bloccare questa votazione e cosa abbiamo fatto? Siamo usciti finalmente da quel postaccio e siamo andati in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, sono partiti da Verona, io ho fatto da Verona fino a Salerno, tre tappe al giorno, le piazze erano piene, naturalmente le televisioni non hanno detto nulla ed è stato molto più bello e molto più utile che stare chiusi dentro quel palazzo. Parlevamo con le persone, ci dicevamo i loro problemi e man mano che, come siamo dei portavoce, man mano che le persone ci spiegano quali sono i problemi sul territorio noi li riportiamo in Parlamento, punto per punto. Io aprivo tutte le serate che facevamo in giro per l'Italia dicendo che oltre a essere un sovversivo era anche un terrorista notav e in qualsiasi piazza fino a Salerno partiva l'applauso, perché? Perché tutti hanno capito che queste grandi opere non sono un problema della Valsusa o un problema di Novi o un problema della regione in cui viene fatto, ma è un problema che stanno ammazzando il Paese con queste grandi opere inutili, stanno ammazzando il Paese. Ma perché? Perché in questo Paese continuano a trovare sempre i soldi per il TAV, trovare i soldi per gli inceneritori, per gli F-35, per le missioni di guerra e non ci sono mai soldi per le piccole e medie imprese, non ci sono mai soldi per i commercianti, i commercianti non ce la fanno più, muoiono, però le concessioni per i grandi centri commerciali ci sono e per i commercianti non c'è mai nulla. Noi avevamo fatto diverse proposte anche in questo settore, noi c'eravamo posti ad esempio all'aumento del 22% dell'IVA, facendo diversi emendamenti, avevamo fatto già un anno fa una proposta di legge per abolire l'IRAP, abolire totalmente l'IRAP per le micro imprese, quelle sotto i 10 dipendenti e sotto i 2 milioni di euro di fatturato, questo avrebbe dato respiro al 95% delle imprese italiane, perché le micro imprese sono il 95%, sono l'ossatura di questo paese, i commercianti, gli artigiani e le piccole imprese, ce l'hanno naturalmente messa in un cassetto, adesso arriva il venditore di pentola e dice togliamo il 10% a tutti, togliamo il 10% a tutti senza agevolare le micro e le piccole imprese come volevamo fare noi. Ma perché i soldi per le grandi opere ci sono sempre e invece per le piccole e le medie imprese? Perché i soldi in questo paese devono andare sempre alle solite persone? Questo è il vero motivo, in Valsusa l'abbiamo visto, nel momento in cui l'appalto per quella grande opera l'ha presa una certa azienda, una certa cooperativa rossa, la CMC, il Partito Democratico diventa favorevole, perché le cooperative rosse sono uno dei grandi problemi e i grandi conflitti di interessi, lo diciamo da mani pulite che c'è un accordo tra il Partito Democratico, il Partito Comunista e le cooperative rosse, non è mai uscito fuori, adesso ci hanno tolto il dubbio, ci hanno tolto il dubbio perché chi mettono a Ministro del Lavoro? Il Presidente della Lega Cop, quindi perché non hanno mai fatto questo benedetto conflitto di interessi anche quando erano al potere? Perché adesso che ci sono loro usufruiscono del conflitto di interessi che non hanno mai fatto su Berlusconi, perché quello è il vero conflitto di interessi, adesso stiamo votando un decreto sulla scuola, bene, le esternalizzazioni, i lavori esterni di pulizia delle scuole a chi vanno? Alle cooperative rosse, gli appalti per il TAV vanno alle cooperative rosse, gli appalti per l'ESPO vanno alle cooperative rosse e questo partito che si ritiene di sinistra è un partito vergognoso, è un partito di sinistra col portafoglio a destra, questa è la verità, perché fanno solo i loro interessi. Naturalmente non siamo stati solo a guardare, abbiamo fatto migliaia di proteste, in un anno migliaia di proposte, in un anno abbiamo presentato più di 4.000 atti parlamentari, ne faccio alcuni esempi, prima ho parlato dell'IRAP, ad esempio adesso appena insediato è andato a fare la visita alle scuole, bene, nella legge di stabilità, proprio io, primo firmatario, avevo fatto un emendamento, l'avevamo chiamato 4.000 cantieri, era un emendamento per mettere a posto dal punto di vista della sicurezza, dell'efficienza energetica 4.000 scuole, ce l'hanno bocciato e adesso lui va in giro per le scuole a dire ma la maggioranza che sta appoggiando questa persona è la stessa che ha bocciato quell'emendamento, perché questa persona non è passata da elezioni, si è messo lì, chi l'ha messo? Chi ha voluto che questa persona arrivasse senza il voto di nessuno? Certo, il Re Giorgio, il Re Giorgio che si è riconfermato per altri 7 anni, cosa mai è successa nella Repubblica? Come mai è stato riconfermato per altri 7 anni e continua a fare il garante di questa situazione, di questo perenne inciucio tra destra e sinistra che continuano a governare questo paese e lo si vede benissimo perché noi eravamo a livello proporzionale, eravamo la prima forza politica, eravamo la prima forza politica di questo paese, in un qualsiasi costituzione diciamo che il partito a livello proporzionale che prendeva più voti era quello che doveva avere il mandato per creare il governo, invece cosa hanno fatto? Si sono messi destra e sinistra assieme e gliel'hanno dato a loro, noi non volevamo assolutamente metterci insieme a queste persone, lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo abbiamo mantenuto, avevamo promesso che riflettevamo i rimborsi elettorali, non li abbiamo presi, abbiamo promesso che ci dimezzavamo lo stipendio, ce lo siamo dimezzato, avevamo promesso che con questa gente non saremmo scesi a patti e non avremmo mai fatto alleanze e lo manterremo sempre, lo manteniamo in regione, lo manteniamo in questo comune e lo manteniamo a livello nazionale, non possiamo stare con queste persone che continuano a regalare soldi solo ai loro amici, un altro esempio, i soldi non ci sono, 22 milioni di Euro regalati a Sorgenia, Sorgenia aveva perso una causa con un comune per inquinamento ambientale e per abuso edilizio, erano 22 milioni di Euro, all'amico De Benedetti è bastato un emendamento nella legge di stabilità, 22 milioni di Euro abbonati, fine, è questo, è sempre la solita storia che i soldi devono andare alle solite persone, poi parliamo delle slot machine, c'era una multa da miliardi abbonata, perché? Perché queste persone poi finanziano la fondazione Vedrò dove c'è la Presidente eletta e via dicendo, è tutto così, i soldi devono andare sempre alle stesse persone. Noi abbiamo girato un po' tutto il Paese e ogni piazza io chiudevo dicendo una cosa, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che non è stato votato da nessuno, la prima votazione utile da quando è stato insediato saranno queste europee, se noi vinciamo le europee il giorno dopo chiediamo le dimissioni e chiediamo di andare immediatamente a nuove elezioni e li mandiamo tutti a casa, questa è una promessa. La stessa cosa dobbiamo fare in Regione Piemonte e la stessa cosa dobbiamo fare in tutti i comuni dove ci presentiamo. Grazie.